Mi sento più libera, mi sento più me stessa, completamente in sintonia con me stessa, mi sento forte, mi sento bene, mi sento più serena sicuramente di prima, so sicuramente. Una storia di non amore, di dolore e di rinascita è quella di Lucia Annibali colpita da un gesto crudele e vigliacco. Quell'acido che un anno fa le ha sfigurato il viso e che voleva cancellarla per sempre l'ha resa ancora più forte. Ti sembra che tu non possa più avere la possibilità di indossare dei begli abiti, di essere di nuovo una donna femminile, poi in realtà con il tempo è cambiato, è cambiato perché piano piano il mio viso è migliorato ma anche dentro di me mi sono sentita sempre più in sintonia con il mio nuovo volto e questo ha cambiato molto. Anzi oggi mi sento molto più donna nel senso che non ho più paura di nascondermi ma perché ho questa serenità dentro che quindi mi fa appunto star bene con me stessa e avere il desiderio di anche solo indossare delle cose, come dicevo nel libro, colorate, così che mi mettono anche più in mostra perché non ho paura di mostrarmi per come sono. Una donna attraversata dal dolore che più volte ha pensato di non farcela ma che è riuscita a trovare la giusta strada per continuare a lottare per rinascere più forte e bella di prima. Fisicamente non è stato doloroso paradossalmente ma perché l'acido ha corroso da subito le terminazioni nervose per quanto era andato in profondità però sicuramente c'è il terrore di aprire la porta di casa tua e di vedere l'uomo, il famoso uomo nero che ti sta per aggredire quindi questa consapevolezza di essere ad un punto davvero, cioè a stretto contatto con la morte quindi lì puoi o morire oppure decidere di farti forza e reagire e lottare perché qualcuno ti venga a salvare e questo è quello che io ho fatto e comunque è una sensazione, cioè veramente crudele costringere una persona a vivere una cosa del genere, molto crudele. Volersi bene è il primo passo per evitare di rimanere incastrate in storie malvagie, autodistruttive e tossiche. Se noi siamo positivi verso di noi, se appunto ci vogliamo bene, incontriamo, questa è una cosa che io ho davvero sperimentato, incontriamo persone che sanno volerti bene, che sanno mettere in evidenza le tue qualità migliori, che ti vogliono rendere felice. Lucia ha ancora paura del buio, di trovare all'improvviso di nuovo qualcuno che le faccia del male, come quell'uomo che solo qualche giorno fa in cella ha tentato il suicidio, quell'uomo che l'ha cambiata per sempre e per cui ora non prova più odio. L'idea che ho avuto è che sia una persona un po' perduta, persa così, a stretto contatto con il male secondo me. Non so se un domani così la sua coscienza lo riporterà un po' a gala, questo sì, non lo so, è una cosa che riguarda lui.